Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mish Tuning Guardate cosa abbiamo qua Questo è un bel pacco Facciamo un passo indietro Circa un mesetto fa io ho postato una foto su Instagram In cui chiedevo che se la foto avesse raggiunto i 200 like Avrei comprato il nuovo volante alla Mito La foto ha superato i 200 like Andiamo a vederlo insieme Apriamo Instagram Notifica a parte La foto era questa 223 like Detto fatto Ecco il pacco lo apriamo dopo l'intro Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia E' bellissimo ragazzi Cioè Senamente bello Che spettacolo Ah buono E' proprio allora ragazzi questo è il volante della mito restining della mito veloce ovviamente tagliato personalizzato al massimo con inserti in carbon look cuciture gialle e mirino giallo personalizzazioni che ho richiesto io proprio su misura ai ragazzi di Xtreme Garage che ringrazio moltissimo hanno fatto un lavoro eccezionale non vedo l'ora di montarlo in macchina e vi lascio tutti i loro recapiti in descrizione così per maggiori informazioni iscrivete, fate quello che volete vi sapranno aiutare su qualsiasi cosa volanti, cubicature fanaleria cuffie del cambio del freno pomelli fanno veramente di tutto e di più e lo fanno fatto bene ragazzi lavoro artigianale è proprio top non ci sono altre parole per descrivere la bravura di questi ragazzi quindi per questo video è tutto prossimamente lo montiamo in macchina iscrivetevi al mio canale youtube qua sotto attivate la campanellina delle notifiche iscrivetevi alla mia pagina instagram Mitch Tuning per questo video è tutto ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti